All'interno delle sessioni aperte puoi già vedere chi ha registrato il video colloquio e quindi puoi valutare i tuoi candidati. Clicchi sul titolo della sessione e sei riportato a invitarli. Per visualizzare i video è sufficiente che ci clicchi sopra e avvi il video con la foto. Quindi appoggiano tutte le domande che tu hai registrato o che hai posto al candidato e vedrai il video di risposta. E potrai commentare utilizzando delle stelle o esprimendo una valutazione a livello testuale. Una volta salvato la tua valutazione sarà salvata. Hai ora la possibilità di utilizzare il link di condivisione per inviare il tuo video a persone esterne al sistema. Quindi potrai copiare e incollare il link di condivisione per esempio via via. I candidati possono essere ordinati secondo tutti questi filtri per nome in cognome, data, valutazione fatta oppure per soglia. Per quanto riguarda la soglia, se la valutazione espressa con le stelle è superiore a quella che tu hai impostato in fase di creazione della sessione, compare la spunta verde accanto al candidato. Altrimenti, se la valutazione sarà inferiore, comparirà una X rossa in corrispondenza della soglia.